Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino, stretto alla tua mano materna guiderei tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi tigori Ti chiamo Noi tigori Ti chiamo Padre nostro che sei Nei cieli Danci il nostro pane quotidiano Padre Tu pane vivo Tu hai il tuo regno Tu metrino Tu fiavolo un posto Per sempre in te Tu mi liberai Come un cielo così terra Come un cielo così terra Dal libro di cielo Volume Sesto Capitolo 47 20 giugno 1904 Dopo avere molto ostentato Quando appena è venuto Il benedetto Gesù mi ha detto Figlia mia è giunta tanto La perfidio umana Da esaurire da parte sua La mia misericordia Però la mia bontà è tanta Da costituire le figlie della misericordia Affinché da parte delle creature Non resti esaurito Questo attributo Affinché anche da parte delle creature Non resti esaurito Questo attributo E queste sono le vittime Che stanno in piena padronanza Della volontà divina Per avere distrutto la propria Perché in queste Il recipiente da me è dato Loro nel crearle Sta in pieno vigore Ed avendo ricevuto La particella della mia misericordia Essendo figlia La somministrano ad altri Si intende però Che per amministrare la misericordia Ad altri Si deve trovare essa Nella giustizia Ed io signore Chi mai si potrebbe trovare Nella giustizia E lui Chi non commette peccati gravi E chi si astiene Da commettere peccati veniali Leggerissimi Di propria volontà Capitolo 48 29 giugno 1904 Questa mattina Trovandomi nel solito mio stato Appena si è fatto vedere Il mio adorabile Gesù E mi ha detto Figlia mia Il segno Quando la mia giustizia Non può più sopportare l'uomo E sta in atto Di mandare gravi castighi È quando l'uomo Non può più sopportare Se stesso Perché il Dio Respinto dall'uomo Da lui si ritira E fa sentire all'uomo Tutto il peso della natura Del peccato e delle miserie E l'uomo non potendo sopportare Il peso della natura Senza l'aiuto divino Cerca lui stesso Il modo di distruggersi In tale stato Si trova ora La presente Generazione Capitolo 49 14 luglio 1904 I miei giorni Si vanno facendo Sempre più dolorosi Per le quasi Continue privazioni Del mio adorabile Gesù Io stessa Non so perché Mi sento divorare L'anima Ed anche il corpo Da questa separazione Che lima sorda Da intendersi Come dolore nascosto Ma tenace e profondo Unico e solo Mio conforto È la volontà di Dio Perché se tutto Ho perduto Anche Gesù Questa santa E dolcissima Volontà di Dio Sta solo lei In mio potere Come pure Sentendomi divorare Anche il corpo Mi illudo Che non porterà Tanto a lungo Lo scioglimento di esso Perché vedo Che me lo sento Soccombere E quindi spero Che un giorno O l'altro Il Signore Mi chiami a sé E così finire Questa dura separazione Onde stamane Dopo aver estentato O quanto Quando appena Gesù è venuto E mi ha detto Figlia mia La vita È una consumazione Continua Chi la consuma Per i piaceri Chi per le creature Chi per peccare Altri per interessi Qualcuno per capricci Ci sono Tante specie Di consumazione Ora Chi questa consumazione La forma tutta in Dio Può dire con tutta certezza Signore la mia vita Si è consumata D'amore per te E non solo Mi sono consumata Ma sono morta Per solo amore tuo Perciò se tu ti senti Consumare continuamente Per la mia separazione Puoi dire Che muori Continuamente In me E tante morte Subisci Per amore mio E se tu Consumi Il tuo essere Per me Per quanto È consumazione Di te Altrettanto Acquisti Di divino In te stessa Stupendi Come sempre Questi tre capitoli Distintamente Significativi Ed importanti Per la vita interiore E anche per la comprensione Di alcuni concetti Anche Diciamo teologici Ecco O spirituali Molto importanti Il primo È Incredibile Cioè La misura Del peccato Dell'uomo Intanto aggiunta L'apertura Per fede umana Dice Da esaurire da parte sua La mia misericordia Cioè Che cosa significa questo? No? Significa Che la misericordia De Dio Chiaramente è infinita In se stessa E non può Essere esaurita Diciamo così Ne vinta Nemmeno da tutte Le più peggiori Nefandezze Che si potessero Commenziere Però Questa cosa Che dice Gesù È misteriosamente E affermata Anche da tanti Santi Canonizzati Della Chiesa Cattolica Come dire Dal punto di vista Soggettivo Come dire C'è un limite Soggettivo D'accordo Cioè Da parte Della persona Cioè Che Come dire Abusa così tanto Della dinamica Ricordia Esagera così tanto Nell'incancrenirsi Nell'ostinarsi Nel peccato Da come dire Da renderla di fatto Impossibilità Ad operare Quindi No? E quindi Cioè Tale Come dire Da non lasciare Altra Come dire Possibilità Altra alternativa Salvifica Ecco Fino a quando siamo In questo mondo Così è a Dio Che esercitare La giustizia Quindi che cessare La misericordia Questo è un tema Ricorrentissimo Gli scritti di Luisa Bracci di ferro Tra Luisa e Gesù Che lui vuole castigare E Luisa invece Si offre come vitti Ma allora Gesù qui spiega Però Questi Per canto loro La esauriscano Ma io Dal momento Che capite Qui c'è un problema L'inesauribilità Della misericordia In se stessa Da parte di Dio E invece La possibile Esauribilità Di essa Per l'abuso Che se ne fa Da parte delle creature È un concetto Delicato Spero che si riesca A comprendere Allora Gesù cosa dice Io non voglio Che la mia misericordia Però Si esaurisca Nemmeno da parte Delle creature E allora Cosa devo fare Devo trovare Dei canali Per mezzo Dei quali La mia misericordia Continua ad essere Attiva e operante Anche Verso tutte quante Quelle persone Che la neutralizzano In tutti i modi possibili E queste sono Le anime vittime E in queste Recipiente Hanno Ricevono la parte Della mia misericordia E la somministrano Ad altri È chiaramente Un compito Osterissimo Questo Perché Numero uno Perché questo accada Le anime vittime Devono essere Pronte a soffrire Come dire Per soddisfare La giustizia Per quanto riguarda I peccati altrui Gesù però Vi spiega Che c'è anche Un'altra condizione Che nessuno Può Assolvere A questo incarico Cioè Non possono amministrare La misericordia Ad altri Se non si trovano Esistessi Nella giustizia E che significa Trovarsi nella giustizia Questo Gesù Lo spiega No? Quindi Nella Sacra Scrittura Tante volte Sono nominati giusti Chi è un giusto? Un giusto è uno che osserva Da un punto di vista Oggettivo La legge di Dio Quindi non commette Certamente peccati gravi E Mai offende Dio Anche nel poco Chiaramente Di propria volontà Ci sono una montagna Di peccati Che hanno conosciuto In Ascetica Ci sono i peccati Di nebolezza I peccati Di ignoranza I peccati Semideliberati Quelli che ci scappano Senza che noi Insomma Riusciamo Quindi Non sono questi che Tolgono la giustizia No? Però ha anche un peccato Veniale leggerissimo Che di per sé Come insegna Santa Madre Chiesa Non Non fa perdere la grazia Ma la raffritta Ecco In relazione All'attempimento Però Di questo Austero Compito Di questa Ostera missione Metterebbe in difetto Perché Se io dico Una bugia bianca La voglia dire Che è una cosa piccola La bugia bianca Offende il signore Perché Formalmente è il contrario All'ottavo comandamento Quindi la bugia bianca Non si dice Per nessun motivo Si può E si deve trovare Il modo In tante circostanze Di dire il vero Senza dire tutto Certamente E Ne Siamo sempre tenuti Come si dice Nel processo americano A dire Tutta la verità D'accordo? E a tutti Questo sarebbe folle Sarebbe no? Certo Se uno c'è un processo Dove ha visto una testimonianza Certo che deve dire Tutta la verità No? Ecco Quindi A queste condizioni Bellissimo Questo Paragrappetto Che ci fa comprendere Come purtroppo Sì L'uomo Possa Come dire In qualche modo Stancare Ecco Come dire Esaurire Ripeto Da un punto di vista Soggettivo Non un punto di vista soggettivo Perché una goccia del sangue Di Gesù Basta salvare i peccati Di tutta l'umanità Questo è assolutamente Acclarato Quindi Dire il contrario Sarebbe dire Una grandissima eresia E quindi È lecito Non è lecito A nessuno mai Dubitare Della divina misericordia Da un punto di vista Oggettivo Ecco Ripeto però Ci sono delle condizioni In cui La perversione La perfidia Diciamo così Il disastro Delle umane volontà Inibisce Neutralizza Anestetizza Blocca Ecco Il transito Della divina misericordia E qui Entra In campo In gioco Il ministero Austerissimo E nascosto Tra l'altro Delle anime vittime Che poi Avremo modo Di conoscere Di ringraziare Quando a Dio piacendo Ci troveremo In paradiso Le conosceremo Queste grandi anime Ecco Poi Nel secondo Capitoletto Che si chiama Il segno Per conoscere Che Dio Si ritira dall'uomo Che è molto In continuità Con quanto detto Precedentemente Dio non si ritira Da nessuno D'accordo Di per sé Perché Dio non abbandona Nessuno Ma è il tasso Di abbandono Dell'uomo Nei confronti di Dio Che arriva proprio A un punto Che se Dio Che se l'uomo Gli dice proprio Io a te Non ti voglio Allora lui Se proprio Non mi vuoi Si ritira Gesù ha fatto sempre Così Basta leggere il Vangelo Pensiamo per esempio A L'episodio Della mancata accoglienza Nel villaggio di San Maria Quello che fece arrabbiare Giacomo e Giovanni E dice Signore ma gli mandiamo Vuoi che preghiamo Che arrivi un fuoco dal cielo Per sterminare A tutti quanti Questi non ti hanno accolto A te Ma che stiamo scherzando Giacomo e Giovanni Giacomo e Giovanni Giacomo e Giovanni Giacomo e Giovanni Non mi hanno accolto Me ne vado Dove mi accoglieranno Quindi È evidente No? Cioè L'uomo poi se la prende Sempre col Padre Eterno Comincia a dire sciocchezze Tipo Dio mi ha abbandonato Ma non è così Sei tu che hai abbandonato Il Signore Ecco Il segno quando la mia giustizia Non può più sopportare L'uomo esternato Di mandare gravi castighi È quando l'uomo Non può più sopportare Se stesso E qual è questa dinamica? Dio respinto dall'uomo Da lui si ritira Cioè Noi dobbiamo sempre pensare Che Dio non abbandona mai nessuno Mai E anche il più grande peccatore Non è abbandonato da Dio Questa misteriosa presenza Anche se Di fatto sempre combattuta E non voluta dal peccatore È avvertita da lui D'accordo? Cioè Non è avvertita Ma se ne avvertono degli effetti Ma quando tu proprio Dalla tua vita diventa Proprio un inferno Orribile Nel senso che Tu diventi insopportabile A te stesso E cerchi da te stesso Il modo di distruggio Quindi si comincia Come dire A porre in essere Dei comportamenti Veramente Autolesionisti E distruttivi Qui poi si apre Un campo Insomma Dove Veramente Si entra in ambiti Borderline Perché al peggio Non c'è mai fine Eh Quello è un brutto segno Quello lì Un segno che Sono stati esperiti Diciamo così Tutti quanti Metodi Misericordiosi Di tentativi Da parte dell'Altissimo E che A questo punto Tocca Passare Alla giustizia Come diceva Gesù A Santa Faustina Kovarska Le porte delle mie Misericordie Sono sempre aperte Quella della giustizia È chiusa E io la apro Sempre contro voglia E solo quando Sono costretto Ma pur contro voglia Quando sono costretto La devo aprire Questo chi conosce Santa Faustina Conoscerà bene Questo Questo passaggio Chi non vuole Passare attraverso La porta Della misericordia Dovrà passare Attraverso La porta Della giustizia Ma tutti Dovranno Come dire Fare i conti Si passa Insomma Questa espressione Con Gesù Cristo Che è L'unico mediatore Costituito Giudice Dei vivi e dei morti Per cui Gesù Cristo Non si può Bypassare Presto Tardi Si dovranno fare Tra virgolette In senso Non minaccioso Non terroristico Insomma Ma per farsi capire Presto o tardi Si dovranno fare I conti Con lui Presto o tardi Per forza Ed è meglio Risolvere i conti Lui è il primo Diciamo così Risolutore pacifico Delle controversie In via Bonaria Gesù è Se facesse L'avvocato Farebbe tutte Transazioni Non andrebbe mai In aula Insomma A fare I processi È indubbiamente Molto più contento Quando si possa Fare così Certo che Se dovesse Trovare Sabe che le transazioni Si fanno in due Anche da un punto di vista Regale C'è chi la offre E chi la accetta D'accordo Ma se quell'altro Non lo vuole accettare Vuole andare in aula A fare un putiferio Per quanto uno Possa essere mite Poi dovrà Adeguarsi Allo stile processuale Non scelto Dalla controparte Si perdoni Questa Divagazione Forense Veniamo all'ultimo Punto Che è veramente Bellissimo Allora Luisa ha vissuto Tante volte Quella particolare Forma di dolore Che è L'assenza Dell'amato Avendo conosciuto Chi è Una cosa che noi Non possiamo vivere In questo mondo A meno che il Signore Non ci conceda Grazie Privilegi Analoghi Perché Noi non ci rendiamo conto Di quello che Dio è Di quanto è bello Il paradiso Della Santissima Umanità Di Gesù Della Santissima Umanità Della Madonna Se questo fosse Uno non camperebbe più Perché starebbe veramente Cioè Noi immaginiamo Noi proviamo a immaginare Quando siamo Quando ci vediamo Una persona Tanto Tanto Cara Un figlio Nel Un figlio Un innamorato Nei confronti Della fidanzata Insomma Quando tu Hai una separazione Forzata Però tra noi Essere umani Sempre un pochino Cioè C'è un dispiacere Immenso Noi C'è un dolore Grande Insomma Noi Noi mortali Grazie a Dio Abbiamo sempre Il fattore tempo Per cui Ci facciamo Un'abitudine Ci facciamo La ragione A tutti Pensiamo Quando muore Una persona Cara È una separazione Cioè Tu non la puoi Più sentire Non ci puoi più Parlare Non la puoi più Vedere Insomma Certamente È una cosa Gradevole No Eppure Queste sono Tutte creature Quindi Le creature Sono Limitate No Quindi Le creature Portano Certamente Tante cose Belle Ma sicuramente Con ogni creatura Anche la più Cara che ho Insieme a ricordi Molto belli Conserverò Nella memoria Forse anche Qualche ricordo Meno bello D'accordo Perché siamo Tutti quanti Creature Quindi siamo Tutti quanti Imperfetti E limitati Non nessuno Di noi Può allietare Totalmente Il prossimo Senza dargli Alcun dolore Noi ci possiamo Provare Insomma A fare in modo Che la nostra vita Arrechi il meno Dolore Il meno danno Possibile Da chi ci sta Intorno Ma Ce ne vuole Insomma Per raggiungere Un elevato Grado di santità Tale da renderlo Possibile E però Con Gesù E con Maria E con Dio Non è così Perché se tu Lo intercetti Noi questo Certamente Possiamo Soltanto Immaginiamo Che cosa Si vada A conoscere E quindi Immaginiamo Poverini Lo stato Dell'anima Di questi Figlioli Dice Eh ma Beati loro Hanno visto Gesù Eh sì Beati loro Hanno visto Gesù Però 14 luglio Eh ci abbiamo 29 giugno Sono 15 giorni Ma che saranno 15 giorni Eh se uno Si legge Gli scritti Dei santi 15 giorni Di astinenza In questa situazione Ti fanno Morire Di dolore Quindi Dice questa La lima sorda C'è una nota Negli scritti Che dice Questo è un dolore Profondo Nascosto Ma tenace E profondo Ecco Allora però Qui Gesù viene E spiega Il senso E Senso per lei Ma senso anche Per tutti Allora Il problema È questo qui La nostra vita È una consumazione D'accordo Una consumazione Da un punto di vista Oggettivo Perché ogni giorno Che passa Si è consumato Un giorno di vita È finito E Oggi è Il 4 settembre 2018 Il 3 settembre 2018 Si è consumato Non tornerà Mai più Forse arriverà Un 3 settembre 2019 Un 3 settembre 2020 Un 2021 Ma il 3 settembre 2018 Non c'è più Quindi La nostra vita Viaggia oggettivamente Verso la sua Consumazione Lenta D'accordo È come quando uno Mettesse Diciamo così Dell' L'immagine Dell'olio nella lampada No D'accordo O della benzina Nel serbatoio Quella si consumerà Finirà D'accordo Non c'è Non c'è Chance Ecco Solo che Questo è un dato oggettivo Poi però La nostra vita Noi decidiamo Come impiegarla Come spenderla Per cosa Per chi Spenderla E quindi C'è una consumazione Soggettiva Della vita Che Coinvolge Le nostre energie Cioè Tu che cosa vuoi Dalla vita Cosa vuoi godere Dalla vita Cosa vuoi trarre Dalla vita Terrene È chiaro Che Questo obiettivo Questa è una domanda Fondamentalissima Noi tutti quanti Dobbiamo Assorbere Le nostre energie E quindi Produce una consumazione Soggettiva Cioè La mia vita Quello che mi è concesso Di vivere La spendo Per questo obiettivo Allora Per i piaceri Se a una persona Gli piace Fa coincidere La felicità Con la lussuria Che cosa pensa Dalla mattina Alla sera Pensa ai modi E alle forme E alle persone Con cui possa vivere I divertimenti sessuali Si organizza Fa il diavolo a quadro Per fare in modo Che questo È una cosa Che si verifichi Più spesso possibile Più a lungo possibile Nelle forme più svariate Possibili Quindi Consuma la vita Per la lussuria Se a qualcuno Gli piacciono i soldi Sappiamo bene Insomma Che cosa fa È tutto quanto Finalizzato All'accumulo dei soldi All'anno spendere i soldi E a conservare i soldi Per esempio Chi per le creature Chi per le creature Questa è una cosa Molto molto piccina Per conquistare L'affetto O mantenere L'affetto Di qualcuno Qui entrano Alcune dinamiche Anche molto Molto profonde Su cui dobbiamo Veramente Andarci Profondamente A interrogare Nel cuore Anche cercare La fama Anche cercare Il successo umano Che cos'è Il successo umano È l'applauso Delle creature Diventare un personaggio Famoso Diventare un attore Diventare un calciatore Che cosa fanno Questi diventano Delle star Degli idoli L'attore Il cantante Il calciatore Insomma Insomma Non è che Per diventare L'attore Il cantante Il calciatore Devi sputare sangue Devi sputare Perché Devi lavorare 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 Un grande musicista Non lo so Tutte quante le cose Che nella vita Assorbono Le energie Altri La spendono Per i capricci Purtroppo Specialmente Le persone Che sono un po' Spendaccione E che Vogliono togliersi Tutti quanti I capricci I capricci Più stravaganti Il mondo Della moda Per esempio Del lusso Ne dà Un'esemplificazione Un'idea Insomma La domanda Che noi abbiamo Porce Io per cosa La sto consumando La vita La mia vita Si sta spendendo Per cosa Si può consumare La vita Per Dio Qui è quello Che chiaramente Gesù Spiega E afferma E Anche Nelle circostanze Ordinarie No Chiaramente I periodi Di lontananza Per Luisa Erano proprio Giorni di consumazione Giorni di dolore Giorni di dolore profondissimo Giorni di desiderio Giorni di invocazione Giorni di attesa Ma è chiaro che Dalla parte del Signore Il Signore Vede quelle cose No Quindi vede quanto Quella creatura Lo sta amando Lo sta desiderando E questa la Fa crescere La nobilità Più consumi Il tuo essere per me Altrettanto Acquisti di vino In te stessa Perché questa persona Comincia a praticare E a vivere un po' Il primo E il più grande Comandamento Che non se lo fira nessuno Amerai il Signore Dio tu Con tutto il tuo cuore Con tutta la tua mente Con tutte le tue forze È Lui il centro Ecco Dice ma io non l'ho mai visto Il nostro Signore Quindi come faccio A vivere questa cosa Non abbiamo mai visto Il nostro Signore Però Se una persona Questo chiaramente L'ha sempre detto Che gli scritti di Luisa Sono adatti A chi Come dire Si è messo un po' In cammino Verso la santità Cioè una persona Che non sa neanche Che cosa sia L'adorazione eucaristica O la preghiera profonda O la meditazione profonda No Quindi che non ha Per esempio mai sentito Nemmeno quelle cose Che tutti sentono Cioè tutti quelli Che vivono un pochino Di preghiera Resentono alcune cose Quindi avvertono La presenza divina In maniera misteriosa Avvertono la sua consolazione Avvertono quei Quei gaudi Quei diretti interiori Spirituali Che si vivono La presenza di Dio Sono cose normalissime Non sono esperienze mistiche Queste sono cose Molto molto ordinarie Già nell'ordinaria età Basta leggere L'imitazione di Cristo Oppure gli scritti Di Sant'Ignazio Di Roiola Cioè la vita interiore Passano in alternanza Tra tempi di fervore E tempi di aridità Tra tempi di consolazione E tempi di desolazione Gli autori usano Termini differenti Allora Dio ti consola Perché? Prima perché Ti dà delle piccole chicche Del suo amore Perché Dio è contento Se noi siamo contenti Poi te lo toglie Perché vuole Che arroventato da questo Tu lo servi Lo cerchi Lo desideri Anche quando lui Non si fa sentire In questa forma Diciamo Chiamiamola sensibile Di percepibilità in te E questo Ti fa crescere Nelle virtù Ti fa crescere L'amore verso di lui Stai tranquillo Che dopo un certo tempo Si farà risentire Io ho sempre detto Quando comincia ad essere Un tempo troppo lungo Sono due le cose O tu Ti sei Intiepilito Quindi ti andrà a fare Un esame di coscienza Che sono molte cose Che ti hanno allontanato Da Gesù Oppure sei un'anima Straordinarissima Perché è successo Qualche volta Insomma Che ha anime Che ha chiamate A grandissima perfezione Cioè Gesù le ha fatto fare L'anticamera del purgatorio Nel senso Lasciandole per tantissimo tempo Proprio prive Di ogni consolazione Ma questo è un fatto Molto molto raro Anche nella Nella mistica In senso stretto Nella geografia Cioè di Di santi canonizzati È rarissimo Che questo accade Ecco Quindi Se io non avverto nulla Cioè Capito adesso qui Dopo noi dobbiamo situarci Ma la domanda fondamentale È per chi sto consumando La vita Per cosa Per chi O per cosa Perché se scelgo Di consumarla Per Gesù È impossibile Che lui non si faccia sentire È proprio impossibile E quindi E quindi Non nel senso Che faccio il pianisteo Ma la dinamica In attesa In attesa di nuove visite Così sarà tutta la vita terrena Fino a quando la vita Non si consumerà Il giorno della nostra morte E speriamo che Arrivi presto Insomma L'eterna visita Che non tramonta E spasseremo Tanto meno Nella sosta divulgazione Non soltanto Quante maggiori Aspiazioni abbiamo vissuto Ma anche Quanto abbiamo vissuto meglio Questi momenti Perché il desiderio Del Signore E della sua presenza E della presenza Della Madonna Dell'oggetto Verso cui il nostro cuore È particolarmente inclinato Non importa Chi è devoto Della Santissima Trinità Come sapete Della Trinità Chi è devoto Dello Spirito Santo Della Santissima Humanità Di Gesù Cristo Chi è devoto Di Dio Padre Chi è devoto Della Madonna Non fa niente Insomma Ecco Questo poi Ogni anima Trova In sé Ecco Nel proprio cuore Insomma Anche i canali Della propria devozione Della propria spiritualità L'importante è che ci sia Però qualcuno Verso cui Quanto più Lo abbiamo desiderato In questo mondo E tanto meno Certamente Tanto meno lunga Sarà la nostra sosta Di purgazione In cui gioca un ruolo Fondamentale Proprio il desiderio Perché le animi del purgatore A differenza di noi Soffrono tanto Non solo per le pene E del senso Che si vivono In alcune parti Del purgatorio Ma soprattutto Per quel desiderio Che li consuma Perché loro Nel giudizio particolare Non vedono Dio Con visione beatificante Come i beati del cielo Ma lo vedono Cioè Lo conoscono Quindi si rendono Perfettamente conto Di quanto sia bello Di quanto sia Il top Stare con lui E immediatamente Dopo l'hanno visto Dio Amma Chi lo sa Quanto tempo passa Prima che lo rivedrò E questo desiderio Le consuma Questo è il motore Del purgatorio E quanto più Questo motore Lo riusciamo ad accendere Insomma Almeno a scaldarlo In questo mondo Tanto meno purgatorio Ci faremo Dopo la morte Allora a scaldarlo Bene Santa Vergine Divina Maria Concedici Anzitutto La grazia Anche se non abbiamo Con l'onore E l'onere Di essere anime vittime Di poter vivere sempre In grazia Quindi Senza debiti Con la Divina Giustizia Quindi Ricordando che Non c'è compatibilità Tra Divina Volontà E Peccato Volontario Forse anche leggerissimo Questo Aiutaci a mettercelo Bene in testa E a metterlo bene In pratica Anzitutto E poi Si presenta nella nostra anima Perché possiamo Entrare bene Dentro noi stessi Per vedere Per chi o per cosa Stiamo spendendo E consumando la vita E alla luce E alla luce di quello Che abbiamo meditato E anche un po' Di sana sapienza Ecco Possiamo fare La scelta giusta Ecco Scegliere di spendere E consumare la vita Per te Per Gesù Per la gloria Per la gloria della Santissima Trinità Letizia E degli infiniti Gaudi e diletti Che la sua presenza produce Nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti Da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria